Ciao craftini! Sto registrando questo video sempre nella giornata in cui abbiamo aperto la LOL Crystal Quindi è per questo che mi vedete vestita uguale Non potevano resistere ad aprire immediatamente ciò che sto guardando ora Guardate che cos'è Questo è un pacco gigantesco E c'è scritto LOL Surprise Avete capito che cos'è? Immagino davvero di sì Quindi io sono emozionatissima perché potrò fare tantissime creazioni e storie con queste LOL Craftini ve lo ripeto Per i saluti mi raccomando se volete essere salutati seguitemi sul mio profilo Instagram Metterò delle foto dedicate appunto ai saluti che farò qui su YouTube Quindi tutti i craftini che mi scriveranno che vorranno essere salutati ma che lo faranno lì su Instagram verranno salutati qui su YouTube Quindi assolutamente saluterò tutti, tutti quelli che me lo chiederanno Questo è anche per abituarci a ciò che accadrà da gennaio Come sapete da gennaio voi non potrete più commentare sotto ai video dedicati ai bambini Quindi abituiamoci fin da ora ad interagire con gli altri soci Ma ora è il momento di fare l'unboxing Questo è un vero e proprio pacco regalo Quindi scartiamolo Cosa c'è qui? Non ci posso credere Sono commossa Quindi direi di iniziare ad aprirlo velocemente Ma alla fine voglio farvi vedere quindi tutta la mia collezione di LOL OMG aggiornata Dentro alla confezione c'era anche una mappa e finalmente possiamo vedere la mappa della città Sarà bello magari tentare di ricreare tutti questi ambienti per avere la vera città delle LOL Guardate qui c'è anche la fontana Vediamo anche un aeroporto Che sia in arrivo l'aereo delle LOL Perché qui tra le strade vedo un camper girare Questa macchina la riconoscete? Scrivetemelo nei commenti Qui notiamo qualcosa di simile ad un camper Un furgoncino della pizza Sarebbe davvero fantastico Poi più in qua cosa vediamo? Eccolo Il cartello lo riconoscete della casa delle LOL Negozio di libri Con piccolo parco di piante grasse Ali notizia strepitosa Neolicious cosa c'è? Oh no non sei informata Lo sapevo che dovevo correre ad avvisarti C'è una notizia amazing Downtown BP e Haptown Girl Stanno aprendo ognuno un negozio Pop up in città Ma hanno bisogno del tuo aiuto Ali Cosa vuoi dire? Ecco i loro cuccioli La loro famiglia Abiti e accessori Sono nascosti in giro per la città E vogliono essere scoperti E vogliono essere scoperti Ali segui il labirinto Possiamo andare tutti all'inaugurazione Noi LOL OMG Vi aspettiamo lì Ma allora ho capito Sono i negozi di Downtown BB E Haptown E infatti guardate la scritta sulle strade Haptown e Downtown Ed infatti c'è scritto Grand Opening Su entrambi i negozi C'è l'inaugurazione Le LOL OMG Ci stanno aspettando lì Troviamo la famiglia I pet Gli accessori E tutto Di queste due LOL OMG E troveremo tutti lì E allora iniziamo Start here O se inizia qui Più chiaro di cosa Sarò veloce Craftini Non mi dilungherò Oh la piccola Lil Ecco qui Il suo nome è Lil Prim Ed è il numero 009 Da attaccare qui Perché comporremo una foto Ali scusa se te lo dico Ma che ne dici di atterrare Sei ancora sulle nuvole Ah È vero Sono ancora tra le nuvole Si intravede la città Infatti vedete La città è coperta dalle nuvole Questo perché Devo tirare la zip Ecco la città Atterrati Numero 2 Questo è qui Queste scatoline Ovviamente le conserverò Oh Meravigliose Scarpe Numero 3 E 34 Qui sotto Dei pantaloni Molto bella Come fantasia 4 Delle scarpette per LOL Il 5 E 6 Il 6 immagino sia questo Lo indicava la freccia Vediamo chi c'è Ha un pet È bellissimo Wolf Town È il 12 Eccolo 6 E qui c'è una maglia In coordinato I pantaloni Il 7 Bellissima Che stile Numero 8 Il laghetto con la paperella Occhiali Il 9 Ho perso le scarpette Scarpette bianche abbastanza semplici Qui c'è il 10 E qui sotto l'11 Come indica la freccia Che cos'è? Mollette Con la scritta Yes Queen Numero 11 Ecco qui Occhiali Pazzeschi 12 Vediamo Un pettine Qui abbiamo il 13 E il 14 No bellissima La scatolina fatta così La possiamo riciclare Usare per creare delle cose Mi stanno venendo in mente Un sacco di cose E qui immagino la LOL È bellissima Con questa conciatura Non l'avevo mai vista Questa conciatura Lei è proper Ma vediamo il numero 14 Ma strano che non ho trovato La sua gonnellina Non vorrei aver sbagliato qualcosa Comunque qui c'è il suo biberon 15 e 16 Quindi qui Cosa abbiamo? Il vestitino Il completo Prendo questo Immagino ci siano delle scarpette Una collana O un bracciale Molto particolare 17 Ed abbiamo una micetta Precisamente Iuppi pupi Eccola qui 18 Vediamo Sarà la chiave del negozio 19 e 20 Una gonna Questo è il 20 Delle normali ciabattine bianche 21 Ah la gonna Non l'avevo persa Semplicemente L'ho trovata ora Quindi possiamo vestirla Ed eccola Proper Immagino che questa Sarà la sua sorellina Con il pet 22 E abbiamo Un maschietto Ed è molto bello Da notare I tatuaggi Che ha sul viso La scritta LOL È un fulmine Ma ancora non abbiamo La sua maglia Quindi dovrà attendere Lui si chiama City Sleeker Ecco il 23 E 24 Occhiali Della LOL OMG Immagino Oh la maglia Possiamo vestirlo E lui invece lo mettiamo Di qua Con il pet 25 Che bei pantaloni Davvero splendidi 26 e 27 Qui ci sarà una LOL Un maschietto Ma sono davvero felice Di avere questi maschietti Ancora non possiamo Completare il suo outfit Ma lui si chiama Preppy Il 27 Scarpette rosse 28 e 29 La maglia Che bella E questo Wow Questa sì Che è una cintura Ed ecco Preppy Vestito Mettiamolo con la sua famiglia Il 30 È bellissima Ho letto che a molti questo rossetto non piace Io invece lo trovo molto particolare e azzeccato Mi piace tantissimo Lei è Downtown Doll Ed eccola qui vestita Con le sue scarpette rosse Adoro questi colori Ed eccola qui Downtown Doll Il 31 È bellissima con questo pannolino Lei si chiama Lil Downtown Doll 32 Belli questi stivaletti Molto particolari Queste scarpe Mettiamole qui 33 Qui abbiamo Il pet Un micetto Ma quindi hanno Due micetti Uptown Miau Comunque mi correggo Questo È un chihuahua Probabilmente Il 34 Amazing surprise Beh comunque ho trovato questo 35 e 36 Una maglia E qui al 36 Un biberon 37 Qui ci sono delle scarpette Bellissime di un rosa tenue 38 e 39 Oh Gli occhiali E al 39 Delle scarpette 40 Un coniglietto Che bello 41 La chiave Del negozio Immagino Di Downtown 42 E abbiamo I pantaloni 43 Ed eccolo qui L'altro LOL maschio Ha le sopracciglia Di due colori Differenti E tatuaggi In faccia Si chiama City Boy Ed eccolo qui Vestito È davvero Bellissimo 44 Pantaloncini Quasi mutande 45 46 Abbiamo il giornale Downtown Downtown Uptown 48 e 49 Quindi qui Abbiamo una LOL Bellissima Con le calze Si chiama Prim E direi di vestirla Ed eccola qui Vestita Questo Orecchini Orecchini We are closed Ma dall'altra parte Probabilmente ci sarà scritto Siamo aperti Non ci rimane che prendere lei Un negozio Un negozio di vestiti Nei avrà concorrenza in città Lei la trovo bellissima È tra le mie preferite Guardate che capelli Che calze È favolosa Ha persino i calzini È stupenda E lo smalto azzurro Beh qui abbiamo i suoi abiti E poi guardate con che cura sono stati fatti Mettiamo subito la gonna E la sua giacchetta È bellissima È elegantissima Le scarpette La destra E quest'altra Craftini Io adoro le LOL OMG È per questo che comunque nei miei video Compaiono spesso Perché impazzisco per loro Davvero Sono le più belle bambole Che io abbia mai visto Orecchini Uno E due E beh poi ci sono gli occhiali Ma se ancora non li vuole indossare Intanto li appoggeremo qui Lei è Uptown Girl E mancano le mollette Che vanno messe qui Guardate com'è bella Ora l'altro negozio La chiave Ed eccola Con il suo negozio Ovviamente Si uniscono Ma sbirciamo che cosa c'è nella città Sono curiosa Questo è un negozio Si chiama Bodega C'è scritto che vendono ice cream E bibite insomma Deve essere un negozietto di alimentari Tipo Abbiamo la spazzatura MC swag was here Tattoo Negozio di tatuaggi Mi spiegate che cosa ci fa la di diva su quell'insegna È diventata famosa Qui abbiamo il menù Da questa parte Barnabys Fancy BB SOSO Un bag and caffè La città delle lol Sta davvero crescendo Ed ora vediamo lei E lei rientra Tra le mie preferite Perché è così particolare Con questi tatuaggi Guardate un cuore spezzato E la bocca Che a tanti non piace Ma a me invece sì Oltretutto Guardate lo smalto Che dettagli Alcune unghie sono nere Altre bianche E i capelli Hanno diverse sfumature di blu E sono morbidissimi Lei è downtown BB Ed ecco i suoi vestiti Oh Meraviglia Non posso crederci La giacca Richiama l'abbigliamento Di tutta la sua famiglia Ma guardate i pantaloni Io non ho mai visto niente di così bello Con tutti questi dettagli Mettiamoli Ma ecco qui La cintura Si chiude Ed ora la giacca Mettiamo I stivali E gli orecchini Guardate quest'orecchino Ha un lucchetto Sono spettacolari Abbiamo visto le loro famiglie Ma dobbiamo vedere Tutta la collezione Delle mie LOL OMG Pronte all'inaugurazione Prego Entrate Oh la la Buongiorno Ma che bel posticino Abbiamo quindi Neonlicious Buonasera Finalmente Una boutique Per noi LOL OMG Raffinata Diva se ti sente Nei E finalmente Hanno messo il mio manifesto Sul palazzo più alto Della città Swag Ciao ragazze È bello qui Aspettami Swag Sei scappata Royal Ciao Non è permesso? Non riesco a passare Ci provo Fa la diva Ma di diva qua c'è solo una Non faccio la diva Ma ho un vestito da vera principessa Bla 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 E poi ci sono io Ciao a tutti Sono Cosmicali Per chi non mi conoscesse Oh Craftini Questo video immagino sarà venuto davvero molto lungo Quindi forse è meglio salutarci Qui abbiamo un'inaugurazione E sapete che cosa succede alle inaugurazioni Si mangia Io non vedo l'ora Grazie Craftini Per seguire le nostre avventure Per i commenti E per i pollicini in su Ci fanno tanto 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 piacere Pollicini a tutti Un abbraccio immenso E seguite Ali Ossia me Sui miei social Su Instagram E su Facebook Nel club di Craftini Tu potete pubblicare Foto video Delle vostre lilline Lolline Ma anche di altri giocattoli Ciao Craftini Ci vediamo alla prossima avventura Ops Tutto bene